bella raga dal vostro grande capitano napoli benvenuti in questo nuovo video il campionato prosegue non c'è mai una sosta pronostici per il quinto turno infrasettimanale di serie a che si parte da martedì fino a giovedì subito stasera ci sono tre partite alle ore 18 e 30 ci sarà Bologna Genoa per questa partita dopo il Bologna si deve riprendere dalla sconfitta di 6 a 0 con l'Inter e Genoa viene dalla sconfitta nell'ultima partita di campionata che ha perso in casa con la Fiorentina per questa partita io prevedo tra Bologna e Genoa X over alle ore 20 e 45 c'è Atalanta-Sassuolo partita veramente molto interessante per questa partita prevedo Atalanta-Sassuolo 1 over alle ore 20 e 45 partita veramente molto bella molto interessante tra Fiorentina e Inter per questa partita prevedo Fiorentina e Inter X over poi domani c'è Salernitana-Verona sono tutte e due le ultime due squadre la Salernitana è l'unica squadra rimasta a 0 punti mentre il Verona che era a 0 punti ha vinto con la Roma 3 quindi praticamente è una partita molto importante per la Salernitana per questa partita voglio dare fiducia alla Salernitana Salernitana-Verona 1 under poi Spezia-Juventus 2 over Cagliari-Empoli 1 Milan-Venezia 1 over poi giovedì si gioca alle ore 18 e 30 Sampdoria-Napoli Napoli in questo momento in testa del campionato sempre forza Napoli per questa partita prevedo Sampdoria-Napoli over Torino-Lazio per questa partita prevedo un po' a sorpresa Torino-Lazio 1 over e per Roma-Udinese di giovedì per questa partita prevedo Roma-Udinese X over mettete un bel like a questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale un buon proseguimento di giornata dal vostro grande capitale Napoli ciao a io